Il Satellite Giapponese Il Satellite Giapponese è una nuova prova dell'importanza dei buchi neri nell'evoluzione complessiva delle galassie, in particolare per quanto riguarda il riscaldamento del plasma che le circonda. I dati di Itaomi verranno studiati per i prossimi anni da scienziati di tutto il mondo per valorizzare questa brevissima occhiata nell'universo a raggi X.